Appuntate, dove siete state tutto questo tempo? Eh, Marciallo, non sapete nulla. Durante gli scavi hanno trovato tre bombe della Seconda Guerra Mondiale. Porca miseria, e che avete fatto? Eh beh, le ho caricate in auto e le ho portate dai colleghi artificiali. Avete messo tre bombe nella vostra macchina? Sì. E se ne scoppiava una? E io ne dichiaravo solo due. Brava puttana, siete una bomba.